Un infarto improvviso ha tolto la vita a soli 59 anni al noto architetto trevigiano Paolo Giordano. Giordano, secondo quanto si apprende sui giornali locali, era un volto molto noto nella marca in quanto da quasi 32 anni lavorava come architetto libero professionista, dedicandosi alla bioarchitettura con il fine di realizzare, basato sui principi di biocompatibilità, sostenibilità ed ecologicità degli edifici, con particolare riguardo alla salute e al comfort degli abitanti, alle problematiche del risparmio energetico e all'utilizzo di risorse rinnovabili. Giordano era anche entrato nell'associazione Moving School 21, dove si occupava di progettazione partecipata e di trasformazione degli spazi scolastici in autocostruzione, si era anche avvicinato al centro sociale Giango di Treviso.